Da metà giugno ad oggi oltre 110.000 persone hanno scelto di viaggiare sui treni regionali di Trenitalia verso le località della costiera cilentana utilizzando i servizi lanciati per l'estate in chiave turistica. Queste le dichiarazioni di Luca Cascone, consigliere della regione Campania e presidente della quarta commissione consigliare permanente urbanistica, lavori pubblici e trasporti. Un ottimo riscontro per il Cilento Line, continua il consigliere. Il servizio attivato nell'ambito del contratto regionale con la regione Campania già nell'estate 2020 e confermato anche nel 2021 con 16 collegamenti in treno da Napoli a Sapri, di cui 7 veloci, segna un numero di passeggeri in crescita costante. Stesso trend anche per il Cilento Link, il collegamento intermodale treno più bus dalla stazione ferroviaria di Ascea e di Pisciotta a Palinuro alle splendide spiagge del Cilento. Un successo che ha già spinto Trenitalia a riconfermarli anche per la prossima estate 2022. Gradimento in crescita anche per gli altri Link intermodali attivati da Trenitalia in Campania, soprattutto per il Costiera Link e per il Pompei Bus Link. Gli ottimi risultati raggiunti dai servizi di Trenitalia, a cui vanno i nostri complimenti, conclude Cascone, confermano in ottica di sostegno al turismo la grande appetibilità delle nostre mete e il successo di una strategia integrata pubblico-privata in chiave di offerta di servizi utili a rendere sempre più accessibili e connesse in maniera integrata le nostre splendide località.